buonasera amici homebrewers e benvenuti in questo nuovo appuntamento su homebrew in pils siamo quasi giunti alla sosta estiva ne parleremo poi più tardi e questa sera una chiacchierata molto soft sempre in compagnia del mio amico biondo matteo ciao matteo che mi darà una mano per vivacizzare la discussione e vi presento subito l'ospite di questa sera lorenzo serroni del birrificio dell'ur che a gorizia vicino gorizia ciao lorenzo ciao luca grazie dell'invito grazie a te della disponibilità abbiamo chiesto lorenzo di fare appunto questa chiacchierata parlando di il latinatrici e come sapete sul mercato sono uscite alcuni articoli che possono suscitare l'interesse anche di noi homebrewers e quindi perché non parlarne capire cercare di capire bene insomma di cosa si tratta se è una pratica di confezionamento alla nostra portata e oppure forse è ancora prematura e nel frattempo ci stanno raggiungendo altri amici fra i quali anche il mitico maurizio romidi che lui in quanto a il latinamento ha già cominciato a fare le prime prove quindi avremo la possibilità di lorenzo di beneficiare dalla tua esperienza perché tu nel tuo birrificio e raccontaci un po hai già da tempo utilizzi già da tempo delle non so non so se sono canula o l'altro modello insomma per il latinare le due produzioni certo allora io intanto ciao a tutti io nel birrificio birrificio dell'ura a fogliano re di puglia provincia di gorizia ero partito inizialmente da bottiglie quindi noi cinque anni fa siamo partiti con la classico setup da imbottigliamento in contropressione e in rifermentazione una macchina da quattro becchi che poteva fare entrambe le fasi un rapporto però in realtà mai mai trionfale non è mai nata questa grandissima simbiosi tra me le bottiglie per svariati motivi uno dei quali era sicuramente il controllo di quello che poi potevano essere soprattutto le birre dal punto di vista aromatico c'erano come già già potete immaginarlo c'erano due filoni la birra in spina e la birra in bottiglia pur facendo la classica in isobarico parlo chiusura sulla schiuma pur andando a rifermentare comunque vada c'era all'interno poi delle bottiglie una quantità di ossigeno troppo importante fatta quindi poi delle analisi con un ossimetro ci siamo resi conto che in spina le birre prendevano diciamo un binario in bottiglia soprattutto alcune se ne prendevano un altro questo andava a compromettere logicamente la shelf life eccetera eccetera quindi diciamo abbastanza sconfortati da questo che quello che poteva essere in quel momento la realtà visto che come gran parte poi delle macchine avevamo una macchina che era nata per il vino poi riadattata a birra perché purtroppo poi il mercato birra professionale è fatto anche soprattutto di questo e per un periodo non abbiamo più confezionato perché non ci si rispecchiava fondamentalmente nel prodotto definito da lì poi un viaggio a Iachima nella nella open brew school tramite mr malta Iachima appunto ha abbastanza aperto la mente e gli occhi su quello che erano le possibilità anche per un piccolo birrificio come come il mio il birrificio è un micro birrificio da 500 ettolitri annuali quindi veramente poco che che lavora fondamentalmente con sette otto referenze continuative cerca di lavorare se poi riesce a produrle tutte per una totalità di all'incirco una quindicina di referenze annuali gran parte di questi litri convergono nel pub appunto contiguo l'altra parte viene confezionata e poi si fa una piccola distribuzione dopo appunto questo viaggio in america io scopro quello che poteva essere fondamentalmente la vera variabile quindi la lattina fatta a livello micro quindi da lì comincia una serie di ricerche una serie di sperimentazioni passando perché no da sistemi di qualche mese da home brewing vedi ad esempio la beer gun in cui noi andavamo a testare quello che era poi l'evoluzione del prodotto per un consumo interno nostro con le con le prove sempre di ossimetro fino poi a convincerci a fare il passaggio a una latinatrice da banco con una graffatrice da banco che sono le attuali due macchine che ho in birrificio attuali momentane perché poi da luglio come ti anticipavo gianluca qualche giorno fa ci evolveremo verso un sistema finalmente un pochettino più automatizzato e anche di controllo del processo e io possego un express per la fase di riempimento un'azienda appunto di palo alto fondamentalmente loro fanno sia macchine per imbottigliare sia per il latinare è una macchina aperta a due becchi dove fondamentalmente la latina viene saturata di co2 riempita in una determinata tempistica con cappello di schiuma a seconda se siamo stati bravi o meno a regolarla da lì viene chiusa la latina in maniera totalmente manuale una alla volta tramite l'october l'october non il modello attuale il modello precedente quello che c'era due anni fa che voglio dire una volta tarata alla perfezione perché lì è la vera incognita una volta tarata alla perfezione dà onestamente bei risultati noi siamo passati da circa 140 circa ppb a circa 35 40 ppb quindi una differenza importante a livello comunque diciamo di micro birrificio e quello che è fondamentale è importante la variabile appunto è il discorso della taratura la taratura della macchina è fondamentale perché ci sono una serie di valori che devono essere rispettati al decimo di millimetro fondamentalmente altrimenti la macchina come del resto una graffatrice professionale potrebbe dare dei problemi potrebbe come dire implodere potrebbe esplodere potrebbe deformarsi potrebbe tagliarsi e potrebbe perfino spandere quindi l'importante è tarare questa macchina alla perfezione e c'è mai fatto già venire un sacco di domande la curiosità la curiosità è tanta perché in effetti ecco la prima cosa non so biondo poi qual è la tua impressione ma fra un sistema di imbottigliamento in contropressione quindi in completa assenza di ossigeno con magari anche cicli del vuoto e un inlattinamento aperto io avrei pensato che la quantità di ossigeno maggiore fosse contenuta appunto nelle lattine invece tu stai dicendo che hai avuto enormi benefici con ovviamente dopo taratura quindi sicuramente sarà trascorso il tempo però i risultati sono sicuramente migliori nel prodotto il lattinato e quindi cioè come mai si riesce a rimanere così bassi di ossigeno all'interno di una lattina rispetto a una bottiglia e anche non effettuando un imbottigliamento in contropressione ma allora diciamo nella mia esperienza la macchina che avevo per fare bottiglie aveva il classico la classica cannuccia con cappellino interno che quindi faceva virare il liquido sui lati ci sono sistemi insomma più recenti che immagazzinano meno ossigeno onestamente e quindi già questa è la prima variabile era poi una macchina che non aveva insufflazione di co2 ma solo vuoto a ok vuoto è pari a 0,1 cioè nel senso che più tieni la bottiglia a fare il vuoto meno aria c'è però è chiaro che se non c'è la co2 non dico che sia che serva a niente però è complicata la cosa infatti noi ce ne siamo resi conto soprattutto sulle lupolate da lì poi c'era comunque il passaggio alla tappatrice tappatrice che la classica tappatrice da banco pneumatica però non riesce purtroppo a meno che non sia una tappatrice veramente importante a chiudere un tappo con gli stessi bar lei era impostata a 5 bar e mezzo però certe bottiglie le chiudeva a 6 6 e mezzo certo che chiudeva a 4 pur avendo dietro un grande polmone di compressori che quindi le davano molti più bar di quelli che lui aveva bisogno c'era in realtà un gioco purtroppo e quindi di fatto c'era la birra che entrava già voglio dire non nel migliore dei modi non c'era la co2 i tappi venivano chiusi a pressioni diverse e questo era il risultato la macchina per cui era appunto come dicevo da vino di conseguenza quando lei andava in contropressione a compensare quindi io la io vado a fare il vuoto la vado a riempire a un certo punto bisogna fare la compensazione e così da generare il cappello di schiuma bastava un niente un residuo di lupolo un residuo di una sporcizia di niente che questo foro lino della della diciamo della regolazione della pressione si otturava e otturandosi logicamente lei non riusciva a compensare e la birra schiumava schiumava in maniera importante ben di più di quello che è il cappello di schiuma e questo purtroppo poi portava le sue conseguenze una tecnologia che su quella fascia di prezzo era veramente comune quindi o si stava su un'imbottigliatrice cinque volte tanto o sennò quelle erano le problematiche con invece questo setup di fatto questo setup è costato un terzo rispetto a quelle imbottigliatrici però grazie all'analisi con l'ossimetro fatto a tempo zero perché l'ossimetro sull'ossigeno fatta giorno dopo non funziona niente bisogna farla all'istante attraverso un laboratorio regionale che ci ha seguito siamo riusciti a come dire capire quello che poteva essere poi il nostro setup e quindi a che velocità far entrare la birra all'interno della lattina quale deve essere il cappello di schiuma il peso poi viene di conseguenza perché la lattina poi va pesata i secondi in cui deve essere poi chiusa quindi tutta una serie di setup e di prove direttamente ci hanno poi fatto diciamo capire raggiungere i risultati sicuramente che non sono certamente paragonabili ai latinatrici da tre metri quadri cioè ci mancherebbe anche altri però rispetto a un'imbottigliatrice molto superiore almeno a livello economico il risultato è ben diverso. Davide ha fatto un paio di domande una credo che tu abbia già risposto quali erano le birre che vedevate deperire più velocemente ovviamente ci parlavi delle lupolate no che sono molto più sensibili. Le lupolate e una blanche che noi facciamo con lo zenzero lo zenzero era incredibile perché in spina era super zenzero e in bottiglia sembrava di non averlo messo quindi come dire un aroma volatile forse ancora di più del lupolo quello dello zenzero che era praticamente invisibile. Invisibile. E poi un'altra domanda che era venuta anche a me che giustamente chiede Davide noi in quanto un brewer non abbiamo un misuratore di pressione per la chiusura dei tappi è così importante la giusta pressione i giusti bar di pressione nella chiusura dei tappi di una bottiglia? Eh diciamo che io poi avevo sentito anche l'azienda dei tappi e avevamo loro mi avevano fatto un prototipo che risolveva parzialmente la cosa questo prototipo aveva un collo che entrava fondamentalmente nell'altro collo della bottiglia e pratica tra l'altro simile potenzialmente a quello che può essere quello di un vino. Noi ci trovavamo alcune guarnizioni che erano completamente deformate e alcune invece che erano molto molto diverse cioè alcune che avevano fondamentalmente il lembo appena appena toccato quindi c'era una differenza ehm di chiusura proprio aprendola che era molto importante. Questo ha portato eh certe volte ad avere anche addirittura nella peggiore dell'ipotesi dove magari quella bottiglia veniva chiusa a due bar invece di cinque e mezzo a bottiglia che messe in orizzontale addirittura una goccia la facevano uscire e quindi è l'apoteosi quindi è cioè certo certo non avevi la possibilità di avere un no perché se esce birra direi che aria. Ma torniamo a noi torniamo all'illatinatrice. Biondo lascio a te la parola perché sicuramente di curiosità ne avrai anche tu in merito. Naci ancora troppo. Ti è mai venuto lo stimolo di partire anche a pensare di inllatinare? Sì sì mi ero confrontato anche con qualcuno che di hard pressure ne mastica ma più che altro vorrei fare una domanda a Lorenzo ehm quali pensi siano i fattori più importanti nel nel processo dell'antinamento? Prima hai parlato di di velocità di di entrata eh della birra eh hai parlato di velocità di tappatura? Quali quali processi implicano diciamo nel nella diminuzione poi alla fine del dell'ossidazione della nostra birra? Beh bellissima domanda ehm allora fondamentalmente è CO2 la risposta quasi universale eh di conseguenza è fondamentale un un riempimento eh io lo faccio molto superiore a quello che è il bar poi della birra confezionata quindi io vado anche a un bar e mezzo solo di saturazione CO2 eh dura circa tre quattro secondi ehm dopodiché sì c'è un riempimento il riempimento è difficile dire diciamo universalmente quello che deve essere la velocità perché anche la comunque va fatta una prova eh diciamo che una lattina da mezzo litro che sono quelle che confezioniamo noi con un cappello di schiuma eh normalmente viene riempita all'incirca in sei secondi eh potrebbe essere però in in caso di una birra scura che è molto più densa molto più pastosa eh il riempimento ne prende anche nove di secondi ehm in quel caso lì comunque una maggior cremosità del cappello di schiuma ci aiuta a fare il resto eh da lì diciamo è importante appunto CO2 lì è importante eh preservare quella birra dall'ossigeno quindi una lattina va chiusa all'incirca in una decina di secondi eh ed è meglio che logicamente eh se c'è un tunnel di CO2 che permette nel momento di riempimento al tappo e poi alla graffatura di tenere lontano il prodotto dell'ossigeno il momento più delicato eh parlando anche con il noto Nicola Coppa che conoscete lo riconoscete tutti senz'altro eh il momento più delicato che ha visto anche lui nelle sue analisi con l'ossimetro è il momento del passaggio da fine riempimento a tappatura e quindi quello è fondamentale un passaggio in cui ci deve essere gran velocità e o CO2 ehm la macchina infatti che poi arriverà eh da me a a luglio con quale farò uno step successivo a è una è la Gosling della Wild Goose quindi una macchina americana sempre da banco eh lei ha il tunnel di CO2 quindi fondamentalmente la lattina decideremo noi in quanti secondi riempirla perché lo stessi loro non sanno dirti in quanti secondi va riempita perché vanno fatte delle prove ehm però nel momento in cui viene riempita e tappata c'è un passaggio sono circa 40-50 centimetri in cui la lattina è sempre sotto CO2. Da là viene viene eh tappata chiusa automaticamente e viene espulsa esce dal dal rullo. Questa è la differenza quindi sì mi sentirei di dirti il passaggio eh è quello quindi da riempimento alla chiusura è quello che potrebbe se fino prima ha funzionato tutto potrebbe essere la vera discriminante. Diciamo quello che noi preserviamo con il jetting eh una volta sulle bottiglie effettivamente. Esatto. Da quello che ho capito Lorenzo perdona magari eh non non è corretto quello che ti sto dicendo ma eh quindi nella lattina si fa prima eh un un cappellino di schiuma e poi si riempie in modo che la birra salga già col suo cappello di schiuma sopra o eh di base eh sia nella express sia poi nella Gosling c'è un diciamo un circuito interno all'interno della macchina in cui la birra eh viene forzatamente portata a fare un piccolo cappellino di schiuma. Ok. Quindi non arriva dritto per dritto ma fa una piccola intersezione che la costringe a diciamo creare eh all'incirca un dito di schiuma. Il resto avviene logicamente con birra che si sormonta e schiuma che chiama schiuma. C'è se no un altro tipo di ehm eh di riempimento che è quello in cui la birra viene riempita fino all'orlo completamente in assenza di schiuma ma completamente sempre sotto CO2. Ed è un'altra tecnologia americana a cui mi ho avvicinato e però è un qualcosa di per me al momento ancora abbastanza sconosciuto come risultato. Eh mentre l'illatinatrice che arriverà eh diciamo che in questo momento è già presente in Italia in eh più di qualche birrificio e quindi ho avuto modo di confrontarmi e testarla con loro ecco. Questo sì è interessante perché anche vedendo Maurizio che ci sta seguendo che ha fatto le prime prove giustamente noi abituati al getti come diceva anche Matteo prima eh di riempire la bottiglia e poi fare il cappello di schiuma e nella lattina eh intelligente la questione di creare già il letto di schiuma in modo che poi la birra si va a versare al di sotto e quindi lei non sarà mai in contatto con con l'ossigeno. Quindi è anche un un suggerimento per Maurizio per chi vuole provare magari a fare prima no? Questo piccolo cappello di schiuma e poi andare a riempire sotto. È logico che eh con i nostri mezzi manuali diventa poi difficile capire quanta schiuma abbiamo al di quanto a birra abbiamo al di sotto della della schiuma e poi magari le le lattine non saranno mai riempite tutte uguali ma insomma per noi un brewer questo è un eh è un aspetto trascurabile. Davide fai tu la domanda dai non non mi far fare sempre a me accendi il microfonino dai che ce l'hai anche le belle cuffiette. No accendi il microfono accendi il microfono. Accendi il microfono. Ho spinto. Eccolo là vai. Scusate non mi ricordo cosa avevo chiesto. Ah se vuoi lo suggerisco io. Lo so. Hai detto prima che avevate fatto delle prove con la Birgan tipo da un brewer. Come erano andate quelle prove per quanto riguarda l'ossigeno rispetto a quello che usi adesso? Diciamo un pochino peggio un pochino peggio meglio rispetto all'imbottigliatrice di prima però sì diciamo che la Birgan ha sicuramente nel comfort e nel prezzo ovviamente quello che è il punto forte. Ora diciamo a memoria non ricordo i PPP però diciamo che eravamo un pochino più alti. Non c'era la possibilità a meno che logicamente non si facesse una lattina alla volta e quindi che si scaldasse il primo pezzettino di fare la schiuma all'inizio ed era tutto un pochino più artigianale perché sì diciamo che non arrivava direttamente dal fusto in quel caso l'avamo provato con un fusto quindi non c'era nessun tipo di passaggio intermedio. Il circuito non era refrigerato mentre diciamo adesso è refrigerato e dopo lo diventerà con l'altra macchina perché l'altra l'altra grande incognita è la temperatura ecco fondamentalmente entrambe le macchine sia l'Express sia la Gosling ti dicono fai lavorare intorno a 0 1 grado già due potrebbero essere troppi quindi logicamente con la beer gun era pure uscendo magari da un fusto però era a temperatura di frigo quindi si lavorava tra i 7 e i 10 gradi centigradi quindi era un po' sì. Per beer gun intendiamo stiamo parlando della bridgeman? Sì esatto. Ok. Aspetta che non ho detto la domanda. Vai vai vai. La macchina nuova che vi deve arrivare e cosa fa chiude anche la lattina? Sì lei entra fondamentalmente viene sciacquata viene riempita bombardata di CO2 quindi ci sarà un consumo di CO2 in mondo in mondo però ecco questo è quanto da lì viene chiusa risciacquata e spulsa fuori. Diciamo che è una macchina che ha un controllo diverso appunto di tutte le fasi e anche vabbè insomma di quantità di lattine prodotte ora perché con la Express October con un grande aiuto dello staff di un ragazzo che mi dà una mano siamo riusciti a fare una media di circa 150 lattine ora lattine da mezzo quella è una macchina che viaggia sulle 500 550 lattine da mezzo quindi è completamente poi automatizzata. È logico che è un altro prezzo cioè quindi sì. Quindi praticamente in un'ora i lattini una tua produzione? In due ore scusa? Sì 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 poi in realtà noi non facendo tantissime lattine perché facciamo grandi gusti allora è probabile che staremo più a preparare la macchina a pulirla che a lattinare. Come sempre succede. Un'altra domanda giusta perché avevo provato anch'io all'inizio quando mi stavo avvicinando alla contropressione con la birganna a cercare di imbottigliare in quel caso birra già carbonato lo schiumone era qualcosa di insopportabile. È per questo che parlavi di basse temperature perché altrimenti non riuscivi. No 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 altrimenti diventa uno spreco immane. Immane quindi sì diciamo che dalle nostre prove sicuramente era diciamo protetta dalla dall'ossigeno però il problema è che la birra era troppo calda e quindi non era la schiuma voluta ma era una schiuma di temperatura troppo alta perché lavorando tra gli otto e dieci gradi sette dieci gradi era molto complicato. Quindi c'era tanto spreco perché dovevi eccedere con col cappello di schiuma? Sì che quella lattina deve pesare nel mio caso che è da mezzo 520 grammi non si scappa. Quindi certo si sta parlando di una lager, si sta parlando di un imperial stout anche 530 però i 520 deve averli sempre no? E allora il rischio poi è sì sempre quello di dar poi fuori i prodotti che non sono sì fino fino all'orlo. Comunque fino all'orlo non lo sono perché hanno il dito di schiuma però sicuramente. Quindi ci sta dicendo anche abbiamo appreso un'altra cosa che le lattine in realtà a livello di volume dovrebbero occupare un po' più del mezzo litro, la lattina da mezzo litro dovrebbe occupare un po' più di mezzo litro perché deve consentire anche di lasciare quel cappello di schiuma. Diciamo che la lattina pesa circa 15 grammi, lattina con coperchio siamo tra i 14 e 15 grammi e quindi su 520 abbiamo già capito che se 500 è l'acqua ma in realtà non è l'acqua, abbiamo già capito che è proprio il mezzo litro più il peso della lattina. Ah ok quindi è proprio colma. Sì 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 noi se noi andiamo a pesare una qualsiasi lattina di birra industriale peserà sempre 520. Sempre. Loro hanno sicuramente una macchina automatica che già gli scarta il 519 probabilmente. Nel caso di un birrificio artigianale deve pesarsele e poi farsi l'occhio per capire già al tato e dopo un po' è abbastanza facile onestamente se quella lattina è pesante abbastanza. Ah ok interessante. Matteo? Quelle che pesano di meno te le bevi? Quelle che le pesano di meno noi abbiamo fatto una scatola che si chiama Birscarpi Birscarpi e quindi in caso di ah ok vuoi vedere l'impianto facciamo il tour del birrificio ti regalo la lattina e ti bevi la lattina. Ah beh. A cavallo donato non si guarda in bocca. O se no ecco se no però dipende dalla tipologia ci facciamo la cipolla caramellata per i burger in pub. E che non è niente male niente male. Anche questa com'è interessante. Te la sparo io ad un'altra domanda. Non lavorando in isobarico con una lattina prima hai parlato di aumento di CO2 all'interno del contenitore. quanto questo aumento pesa? Cioè di un quarto, di un mezzo di più se sparo una birra a due volumi la lattina sarà? No no ma allora diciamo che la lattina tiene fino a 6 bar. Quindi diciamo la lattina non esplode. Ma è chiusa la lattina? Cioè nel senso che o c'è una cannuccia soltanto che entra all'interno? No no ma scusami allora forse ho capito io male la domanda. Mi cerco di esprimere meglio non conoscendo poi tutti i sistemi anche di imbottigliamento e tutte le lattinatrici. Solitamente o perlomeno quella che è la mia esperienza di vista entra una cannuccia solitamente all'interno del contenitore. Non lavorando con un contenitore diciamo alla stessa pressione o meglio cerco di dare la stessa pressione per poi fare il riempimento. Quanta CO2 sparo in più rispetto al diciamo a quello che è la birra già piena di volumi di CO2? Sì beh allora noi facciamo una pre evacuazione di circa un bar e mezzo. Le birre io le porto tutte tra gli 0,8 e un bar fondamentalmente. Pre evacuazione scusami con la pompa? Come lavorare? No la pre evacuazione con proprio un getto di CO2. Di CO2 ok. Quindi c'è una quella macchina che ho adesso ha due cannucce in una entra la CO2 nell'altra entra la birra. Prima ci sono circa 3-4 secondi di saturazione CO2 sparata dentro a un bar e mezzo circa per 3-4 secondi. Dopodiché tutto questo meccanismo aperto quindi non è in isobarico mai aperto. Da lì viene riempita c'è una cannuccia che arriva fino sul fondo circa in realtà a un centimetro 0,8 dal fondo e da lì sale 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 con circa un dito di schiuma sale sale sale. La macchina si ferma da sola viene tappata e chiusa. Diciamo che quando si va a fare lattine si cerca sempre di dare un po' di CO2 in più perché soprattutto essendo aperta tu dovrai già mettere in conto che è qualcosina aperta fondamentalmente. E quindi noi cerchiamo di lavorare per rispondere un po' alla tua domanda anche con un po' di velocità almeno su un 20% in più su quello che poi vorremmo che fosse il prodotto in spina. Ok grazie. Più o meno, ma poi ci comportiamo con Davide. E ecco con Davide invece, lui collaboratore anche dell'Heart Pressure, mi viene in mente che potrebbe anche l'Heart Pressure trovare qualche modifica per, diciamo, il lattinare anche. Ovviamente a patto che si tolga la pompa del vuoto, Davide, perché se no te ritrovi con un mucchietto di alluminio in mano. Sì, ti dico, ci avevamo pensato, anche Lucio tempo fa ci aveva dato un'occhiata, non c'è stasera, però anche lui ci aveva un po' guardato e sì, cioè, ci dovrebbe essere troppa difficoltà, perché alla fine è come quello che fa Maurizio adesso con la manuale. Il problema è sempre il livello, perché con la bottiglia tu hai un sensore di livello che ti funziona, con la latina non penso che funzioni, però non lo so, perché non so esattamente, penso che sia, non so come funziona. Sì, giusto per spiegare a Lorenzo che magari non ha visto il video, sicuramente non ha visto il video di Maurizio, praticamente Maurizio non ha fatto altro che ad una pistola di riempimento in contropressione, aggiungere un tappo di quelli in silicone, praticamente della larghezza, quelli belli larghi, un tappo di silicone, esattamente, è andato a tappare, quindi a creare all'interno della lattina la stessa pressione della birra, quindi ovviamente facendo un ciclo di saturazione anche lui di CO2, però non potendo fare il vuoto, ovviamente, perché se fai il vuoto la lattina si accartoccia. E poi sì, abbiamo visto che nel suo video ha avuto qualche piccola difficoltà nell'estrarre poi la lattina, perché ovviamente devi andare un po' in pressione con questo tappo di silicone, estrarre la lattina, fare il jetting di schiuma, quindi riempire l'appo di schiuma e poi andarla a tappare. Però il sistema, diciamo che per il momento, benché laborioso, però produce i suoi effetti, è riuscito in qualche modo a illatinare in assenza di ossigeno. Qua tra noi adesso è comparso anche, quindi lo voglio coinvolgere, c'è l'amico Giovanni, che fra l'altro ringrazio perché mi ha consentito di contattarti per farti intervenire questa sera. E quindi Giovanni, non so anche tu se vuoi, dalla lontana Austria, dire qualcosa a proposito delle lattine, se magari ti è venuto in mente anche a te, di provare. Se sei stato a vedere Lorenzo in lattinare in verificio. Dimmi se senti il ritorno in cuffia. Non parliamo, quindi non lo sentiamo. No, ma non lo sentiamo. Diciamo che con Lorenzo ci stiamo cominciando a frequentare abbastanza spesso. Purtroppo il coronavirus ci ha bloccato, ma abbiamo in piedi altri progetti. No, non ho visto la lattinatrice perché, adesso glielo dico per la prima volta, mi sembra quasi di venire a rubare segreti, ma è un qualche cosa di suo. Se voi non siete mai andati a vedere il birrificio, ve lo consiglio, noi abbiamo già fatto una gitarella lì da lui. Ed è come quasi rubargli, non dico il segreto, però preferisco berla la birra, conoscerlo con lui e parlarci dopo. Una volta te la mostro Giovanni, promesso. Io ero curioso da un punto di vista di marketing, perché probabilmente la lattina ha quello che frena, adesso io parlo per chi fa come te il mestiere, quindi devi assolutamente anche entrare sul mercato. La lattina probabilmente frena perché perde quello che è il fascino di vedere, la brillantezza, il colore. Però mi pare che tu hai giocato molto bene da questo punto di vista perché fai delle etichette che, voglia o no, portano il bevitore a incuriosirsi. Quindi qual è stato magari anche il passaggio da un punto di vista di marketing che o ti ha frenato o che ti ha dato anche magari una spinta in più per passare alla lattina? Beh, diciamo che all'inizio non è stata assolutamente facile perché otto clienti su dieci si preferivano sicuramente esteticamente la bottiglia. Io ho cercato di fare passare il messaggio che in fondo loro acquistano la birra per berla e quindi diciamo che il contenuto li avrebbe conquistati più dell'estetica precedente. Su questo poi, vabbè, curare sicuramente l'estetica dell'etichetta ci ha dato una grande mano per riuscire a svecchiare quello che è il prodotto. O meglio, il binomio birra-bottiglia uguale vino-bottiglia perché poi spesso, soprattutto magari dieci anni fa, un birrificio giocava su quelli che erano alcuni concetti, quelli che erano alcune immagini e sensazioni che erano simili ad alcune, magari, bottiglie di vino, sia nella descrizione sia anche nel concept, per esempio, dell'etichetta. Nel caso della lattina si va a svecchiare in maniera impressionante, logicamente. Si va a cercare un pubblico più giovane, in maniera più diretta, più informale, assolutamente. Quindi, diciamo, siamo riusciti adesso, perché logicamente, vabbè, siamo passati due anni, però da circa un annetto a questa parte, avere poi la vera risposta con un gradimento superiore rispetto a quelle che erano le bottiglie, logicamente poi arriva sempre, dal punto di vista proprio del marketing, il cliente che dice ah, beh, devo regalarlo, se devo regalare preferisco una bottiglia perché fa una figura diversa. Io su questo, come dire, sul gusto personale non discuto, però almeno così io discuto sul gusto della birra. Così ne riesco a rispondere prima, fin là, fin là, ecco. Interessante, interessante. Ancora una domanda, se posso. Ci sono stati dei, dal punto di vista della logistica, no? Immagino che la lattina, usando di meno rispetto al vetro, avrai sicuramente dei vantaggi. I primi tre che ti dicono, ma non torno più indietro sul vetro ma neanche è morto, da un punto di vista logistico, quali sono? Ma tu parli di, del passaggio. Per trasporto, trasporto. Sì, ci sono, nello stesso, nella stessa dimensione io riesco a portare in birrificio 4.492 lattine contro 812 bottiglie, quindi si sta parlando di una differenza abissale. Quel bancale poi va a pesare 30-35 chili, compreso il bancale, che pesa da solo 10 chili e quindi è manovrabile da una persona e sollevabile tranquillamente da due. Il bancale di bottiglie bisognava movimentarlo col traspallet. In questo caso qua noi riusciamo anche a stoccarli una sopra l'altro. Prima, non avendo un muletto elevatore, non si riusciva. Come costo? Diciamo, la lattina mi costa leggermente meno, perché io prendo lattina e coperchio e quella da mezzo mi viene 11 centesimi e mezzo. Lattina e coperchio prima, una bottiglia con coperchio a me costava 13 centesimi, quindi si parla di sì. Qualche centesimo di differenza che però, diciamo, fa meno la differenza di quella che è la capacità di trasportarlo, il fatto di riuscire a raffreddarla prima, certamente anche si scalda, però il fatto anche di poterla mettere in un frigo illuminato senza pensieri e il fatto della chiusura, perché la chiusura è un qualcosa che va ricercato. Non è che la October o la Cannular ha delle chiude, è perfetto delle chiude, no, cioè bisogna tararsele, ci sono delle belle guide online e bisogna seguirle pedissequamente, farsi la propria tabellina e utilizzare un micrometro o un qualsiasi tipo di sistema preciso per capire quelle che sono le chiusure. Diciamo che quella che è alla fine la chiusura dovrebbe creare una sorta di zero con all'interno una S. Questo va a significare che i lembi, sia quello del tappo sia quello della lattina, vengono piegati e girano su se stessi, creando una sorta di saldatura. Noi infatti ogni volta che si fa un ciclo di lattinamento bisogna controllare i parametri delle prime due o tre lattine. Se dopo sono omogenei, allora partiamo, altrimenti va fatta una piccola taratura. Una volta al mese circa, con la Flex, noi tagliamo una lattina vuota, la chiudiamo, la tagliamo per capire la saldatura, la chiusura. Cioè l'October, così come diciamo anche tante altre macchine, ti invia quello che è il documento per mostrarti quello che è la forma di quella saldatura. E quindi anche lì con una lente di ingrandimento, con un microscopio esagerato, basta anche una lente di un cellulare magari con ingrandimento, bisogna andare a vedere quella che è stata la chiusura. Se c'è questo disegno, allora è benissimo, se no bisogna andarlo a ricercare con alcune modifiche. Questo disegno ci dà la tranquillità assoluta che quella lattina è chiusa bene. E quindi può succedere qualsiasi tipo di cosa, però non spanderà. E' una cosa fighissima, però qui viene la domanda a questo punto, diciamo, è una cosa alla portata degli homebrewers. Cioè, secondo te Lorenzo, ti senti di consigliarcelo a un homebrewer particolarmente appassionato, che ha voglia di lanciarsi anche nel mondo delle lattine. E' una cosa che può portare, perché ovviamente quello che poi ricerchiamo noi, questi aspetti, giustamente, che anche Giovanni ti ha domandato, sono molto interessanti, ma dal punto di vista commerciale. E' logico che per noi, diciamo, quello che premia di più è il gioco vale la candela, oppure no. Oppure ci sono troppe variabili e ancora adesso i prodotti che sono sul mercato fanno tribolare troppo, non ci consentono di avere, diciamo così, un processo sufficientemente spedito. Perché poi, ripeto, noi se ci mettiamo mezz'ora in più non succede niente, lo facciamo per passione. Fondamentalmente ci dobbiamo divertire. Ce la facciamo o secondo te ancora presto? Ma no, cioè, secondo me ce la fate benissimo, nel senso che dipende sempre da quello che è l'hobby per ognuno, no? Siamo qua senza scopo di lucro, proprio perché siamo tutti appassionati di questa grande bevanda e quindi cerchiamo di migliorarla giorno dopo giorno. Dipende anche dalle possibilità. Io dico, ok, mi interessa fare lattine, so che non potrò, si può però, lattina chiama isobarico, quindi è un po' più complicato, non potrò lavorare in isobarico, non voglio spendere per passare a una graffatrice, mi piacciono le birre come vengono, benissimo. Allora siamo tutti contenti. Quello che ho potuto vedere io è che anche in alcune occasioni in cui si vanno ad assaggiare determinate birre è che c'è una, e io ero il primo da un brewer a, diciamo, peccare in questo, portare una grandissima attenzione a quello che è il mash, la preparazione del mosto e anche, perché no, la fermentazione. Poi la fase dell'imbottigliamento, che è quella che annoia di più, fondamentalmente, ma sì, eccetera. Però diciamo che una grande birra va imbottigliata alla perfezione, cioè è un processo, non a caso, anche dal punto di vista professionale, un'imbottigliatrice, lattiniatrice seria, costa più di un impianto di produzione, ma ben di più di un impianto di produzione, proprio perché è una fase talmente delicata dove noi possiamo in qualche secondo andare a rovinare un mese, due mesi, tre mesi di lavoro. Quindi sì, assolutamente vale la pena perché si va a migliorare quello che è un prodotto se quel prodotto lì ha delle problematiche, come succede sette volte su dieci. Però ci sono dei passaggi che sono costosi, perché bisogna lavorare con la CO2, perché bisogna lavorare con un'attrezzatura adeguata a quello che è l'isovarico, perché bisogna fare delle lattine sapendo che ci sarà appunto dispendio più di tempo, di taratura, di tributati, di tutta una serie di conseguenze negative che poi, viva Dio, diciamo porteranno a un miglioramento. Dei vantaggi dall'altra parte, certo. Il nostro movimento è un movimento americano, cioè l'80% dei birrifici in America sta lavorando con le lattine e anche di home brewer, nel senso che stanno lavorando in tantissime quelle lattine. Quindi per farlo si fa, bisogna mettere in conto una dose di pazienza e sicuramente anche economica superiore. Stavo facendo la ola, certo. Mi hai fatto emozionare, ti dico. No, perché in effetti ha illustrato quello che è il giusto spirito degli home brewer. Non lo facciamo sicuramente per scopo di lucro, ci dobbiamo divertire, però giustamente cercare delle soluzioni che ne valgano la pena, che ci facciano divertire, perché se poi dopo alla fine partono solo santi, perché con i mezzi a disposizione non ce la facciamo. Partono anche in birrificio, tranquilli. Ah, beh, mi immagino, a volte sono solamente uno sprone, uno sprone a fare meglio. Qual è la taratura più difficile nel processo di imbottigliamento? Beh, diciamo... La lattina tende, almeno con la macchina che ho io, ogni circa 400-500 lattine a perdere l'altezza. Quindi lì vanno regolati i due rulli, cioè quello che fondamentalmente piega e l'altra che piega in giù. E quelli sono abbastanza semplici, perché ci sono dei punti da ricercare col micrometro, devono segnare 0,76 pollici, 0,42 pollici e non puoi sbagliare. Se non segnali, la devi regolare meglio. Però c'è l'altezza, l'altezza è cioè la pressione che la lattina deve avere al momento della chiusura. E quella è la parte più difficile, secondo me. Perché una lattina che chiude poco, chiude male. Una lattina che chiude troppo, si deforma. E quell'altezza lì, che non è solo l'altezza, va poi a influenzare le due chiusure laterali. Quindi se lei è troppo compressa, allora saranno sbagliate anche le due chiusure laterali. E viceversa, se è troppo allentata, sono sbagliate. Quindi una volta trovata la quadratura delle due rotelle, bisogna andare ad agire sull'altezza. E sull'altezza non esiste un parametro. Perché l'October te lo descrive come deve la lattina fare una sorta di click. Cioè deve avere una leggera resistenza e poi da lì, come dire, finire nel vuoto. E inizialmente erano incomprensibili queste parole. Perché o era, ok, saliva troppo facile, oppure saliva troppo dura. E c'è poi un piccolo giochetto con questi dadi, regolazioni, chiavi, eccetera, in cui capisci che lì deve essere. Ti rendi conto che questo salto è effettivamente una sorta di perno in cui la lattina sale e poi finisce nel vuoto. E in quel momento lì lei è chiusa, ma non è né troppo né troppo poco. Questa è la cosa più difficile dell'October, che ogni tanto ci fa bestemmiare. ed è la cosa più che altro che non rientra in un parametro e quindi crea fastidio che abbia un numero, ecco, quello fondamentalmente. Però si riesce. Io le mie lattine e tante le ho buttate perché erano chiuse male. Quindi piange il cuore, eccetera, eccetera. E dopo alla fine capisci quello che è il meccanismo del procedimento. Bene, abbiamo anche scoperto, fra l'altro Lorenzo ci ha detto stasera, che quindi stai cambiando sistema. Quindi ci sono due October che probabilmente potrebbero essere far gola a più di qualche home brewer. Quindi fatevi sotto, se avete voglia, contattate Lorenzo a Delura, in provincia di Gorizia. Bene, io non so se ci sono altre domande. Eccolo là, vai Davidone. Prima cosa, le grafiche delle lattine sono fighissime. Ah, ok. Ah, sei andato a vedere nel nostro grafico Elisandro. L'avevo anche già vista. Tra l'altro ha aperto un studio tatuaggi a Gorizia, quindi. Veramente figa, andatene a vedere se non lo conoscete. Allora, la seconda cosa è questa. Le lattine che tu compri in bancale non arrivano di piegate, di rotte? Allora, se mi arriva qualcuna un po' così. Sì, beh, diciamo che la prima spedizione è stata un disastro. Proprio una scena simpsoniana dove il corriere di turno apre l'asserranda e sentì rumori di tutun-tun che le lattine che cadono. Questo perché il corriere è ancora novello e novizio per il trasporto delle lattine perché è un qualcosa che lui non può afferrare e lanciare. È un qualcosa che poi si ammacca e quindi al di là della prima spedizione poi per il resto io me ne sono praticamente sempre andate a prendere salvo in una volta. Così vado, mi noleggio un furgone, un camion, me le carico. La Bolle, perché io le prendo dalla Bolle a Nogara, Verona, che è lo stabilimento italiano che le produce per Coca-Cola Italia per intenderci. Quindi si entra in un quartier generale enorme, enorme o qualcosa di fantascientifico perché il quartier generale è grande come Fogliano Re di Puglia dove ho il biorificio più o meno. Loro hanno tutto un sistema al di là di HCCP però anche di controlli, telecamere, quindi loro ti danno una lattina garantita HCCP perfetta. Poi stati, però non si prendono, però è Franco Magazzino, non si prendono l'onere del trasporto. Da lì in poi sono affari tuoi. Capita ogni tanto che qualche lattina arrivi ammaccata. Se arriva ammaccata in maniera lieve insomma si riesce comunque a riempire senza problemi e se arriva presa a pugni è una lattina persa. Diciamo che non c'è, potrebbe capitare ogni tanto c'è capitato che magari il lembo della lattina sia leggermente deformato però poi viene ripreso nella chiusura della graffatrice. Si richiude comunque bene, abbiamo visto, e non dà problema. Te lo chiedo perché sono stato un paio di settimane fa da liquida, c'è il presidente di Ferrara, bancale di lattina ma molte all'esterno erano tutte rotte, per quello te lo chiedo. Siete che lì il corriere? La volta che era venuto a me il corriere lui era disperato, cioè mi ha detto questo bancale è una maledizione perché è leggero, leggero, hai capito? Perché non sanno come afferrarlo. Poi il discorso è che non è che tu dici vabbè hai il traspallet, no, perché la ball ti mette le lattine su un pallet che è chiuso da tutti i lati, quindi non ha le due sezioni vuote che poi non lo puoi fare. Quindi l'unica cosa è trascinarlo con le mani perché ha comunque dei tiranti, bisogna trascinarlo con le mani. Solo che sì, mi rendo conto che trasportarlo per chi trasporta tutt'altro non sia così semplice. ne rimette il birrificio, quello sempre. Certo, sì. Fare un'ultima domanda. Visto che mi hai dato l'idea, mentre fai la domanda io faccio vedere la grafica di una lattina. Vai, vai volentieri. Eccola qua, vai. Ti volevo chiedere una curiosità, da birraio, visto che ogni tanto lo chiedo in giro, segui un po' il movimento homebrewer, cioè il discorso della contropressione, queste cose qui, cioè eri a conoscenza del fatto che gli homebrewer bene o male si stanno avventurando in queste cose qui, oppure... Sì, sì, beh, diciamo che ho la fortuna comunque di essere in contatto spesso con diversi homebrewer che mi vengono a trovare in birrificio dell'associazione soprattutto Ombrewer Gorizia di cui Giovanni Messineo è presidente. Esatto. No, e quindi già con loro io diverse volte mi sono confrontato sulla contropressione. C'è chi lo fa già da tempo, c'è chi sta provando a farlo proprio l'altra settimana due ragazzi sono venuti a chiedermi qualche consiglio e c'è chi si rifiuta di farlo o comunque diciamo non è propria intenzione. Diciamo che all'ultimo concorso homebrewer noi giudici ci eravamo già accorti in alcune determinati tipologie di chi ci stava lavorando e chi meno perché alcune differenze soprattutto nelle lupolate erano abissali, cioè abissali e con questo non vuol dire che solo lavorare in contropressione faccia buone birre. No, che abbia più probabilità di far buone birre soprattutto le lupolate sì, poi dipende dalla birra e da come si lavora, però si sentiva una spinta incerte infatti poi tramite il confronto è stato confermato che era in contropressione e tutto di sobarico il processo e quindi tanto di cappello. Birre stratosferiche anche per fare fatte da un birrificio stratosferiche quindi tanta roba. Questo ci fa piacere ma insomma lo sentiamo dire sempre più spesso nei concorsi il livello si alza sempre più. Bene. Benvenga! Esattamente. Approfittiamo per dire che insomma sono uscite anche le date del campionato italiano quindi andate a vedere oltre che ma lo leggerete anche sul nostro magazine che uscirà prossimamente un bel concorso per gli homebrewers che vogliono partecipare in quel di Corizia proprio nella sede del birrificio dell'Ur Lorenzo che ospiterai per settembre se non ricordo male Lorenzo io ti ringrazio ci ha fatto molto piacere è stata una bella serata interessante abbiamo scoperto qualcosa carpito anche qualche piccolo segreto e magari ecco perché no possiamo aver dato anche voglia a qualcuno di cimentarsi e di se non altro affacciarsi al mondo delle lattinatrici per cercare di come ci dicevi tu come è successo nel tuo caso di migliorare sensibilmente lo stoccaggio delle nostre produzioni chissà quando vedremo Biondo i primi concorsi con delle lattine che arrivano se non è già successo beh il lobby diciamo l'ha aperta questa frontiera ha detto un litro e mezzo dal concorso va bene sia in vetro che in lattina c'ho una perplessità ma me la tengo per me te la tiene non la dici ok bene grazie ancora Lorenzo grazie mille grazie a voi grazie Lorenzo ti verremo sicuramente a trovare grazie a Giovanni che ha permesso questo bellissimo interessante incontro e noi ci vedremo il prossimo lunedì per i saluti estivi portate un bel bicchiere di una vostra produzione è solo una chiacchierata non registreremo nulla perché insomma saranno chiacchiere in libertà ci faremo gli auguri di una ottima estate con le nostre amate birre e ci terremo in contatto comunque attraverso i nostri canali social come sempre facciamo grazie a tutti e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti